Spirito di Dio, scendosi di noi, anche questa sera dacci la Tua luce e dacci la buona volontà dell'ascolto. Anche questa sera piega la nostra servizia. Oggi, se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori. O Spirito di Dio, vieni, vieni se di noi noi ti attendiamo. O Spirito di Dio Rabi, dove abiti? Abbiamo visto la risposta, abito nel tuo cuore. Voglio venire in casa Tua. Apri mi la porta, perché voglio portare la salvezza. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Dove abita Gesù c'è la salvezza, c'è la gioia, il peccato viene tolto, c'è la vita. Siamo restituiti nella nostra dignità di figli di Abramo. E allora ecco che dobbiamo scendere dall'albero come Zaccheo per ricevere Gesù in casa nostra. E dobbiamo entrare dentro il nostro cuore perché egli bussa. E' là dentro il nostro cuore che noi lo vedremo, noi lo sentiremo, noi sapremo che egli è il Signore. Il mio Signore. Maestro dove abiti? L'abbiamo visto ieri sera, io abito nella Chiesa dove insegno ancora, dove la mia parola diventa vita. Io abito nella Chiesa dove ancora ti santifico con i miei sacramenti. Rinnovo il tuo battesimo tenuto col mio corpo e col mio sangue. Io sono nella mia Chiesa dove ti guido mediante il mio Spirito. Sono nella tua comunità. Nella piccola Chiesa dove ti ho collocato perché tu cresca diventi grande davanti ai miei occhi. Tu che sei un prodigio davanti ai miei occhi. Tu che sei iscritto nell'albo dei primogeniti di Dio. E' là che il mio Spirito nella tua comunità ti illumina, ti guida. Mette la preghiera del figlio sulle perambra. Ti comunica la vita del figlio e ti fa gridare, Abba Padre. E' Lui che ti illumina gli occhi e ti fa riconoscere nei tuoi fratelli i generati dall'unico generante e accende nel tuo cuore l'amore. E' là che il mio Spirito ti illumina gli occhi e ti fa vedere in ogni sofferente, colui che soffre in tutti gli uomini. Ti fa accogliere la tua presenza in tutti i tuoi fratelli che vengono a chiedere aiuto. E' là che io mi trovo. Maestro dove abiti? Questa sera ti do una terza risposta. Io abito in cielo. Te l'ho detto in Giovanni. Non mi lascerò orfano. Io me ne devo andare. Io vado avanti. Vado avanti per prepararvi un posto. Perché è là dove sono io. Siate anche voi. Gesù già è là. Quando è qua, con gli apostoli, è sempre là dove sono io tuttora. Là siate un giorno anche voi. Il verbo di Dio, proprio come verbo di Dio, resta sempre nel grembo del Padre. Come detto in Giovanni, proprio alla fine del prologo, Giovanni dice il verbo che è nel grembo del Padre, egli ci ha detto queste cose, ci ha dato queste cose. Per cui il verbo rimane sempre nel grembo del Padre. Perché rimane sempre nel grembo del Padre? Perché il Padre continuamente rigenera. Noi una volta nati sulla terra, continuiamo la nostra vita autonoma. La mamma ci ha generata, ci ha messa al mondo, poi noi viviamo per conto nostro della vita che la mamma ci ha dato. Non rimaniamo nel grembo della mamma. Non è così del verbo. Il verbo continuamente viene generato dal Padre. Continuamente il Padre è il Padre. Il generante è il generato, è il generato, è il generato, è il generato. Così anche per noi. che siamo continuamente generati da Dio. Ed è per questo che mentre siamo generati da Dio in quel momento non pecchiamo, siamo impeccabili. Comunque il verbo come verbo è sempre nel grembo del Padre. ma come verbo incarnato che ha compiuto la sua missione qua giù. E' assiso alla destra di Dio. E' egli è sceso al cielo e sia dalla destra di Dio ed è là da venire a giudicare i vivi e morti. Uomini di Galilea che è stato a guardare quel Gesù che avete visto salire in alto, sia dalla destra di Dio, verrà un giorno e nell'ultimo giorno a giudicare. Voi andate in Dante a Gerusalemme, secondo quanto egli vi ha detto, e attendete che si compia la promessa, quella che vi ha detto, la promessa dello Spirito, perché egli attraversi il suo Spirito sarà sempre con voi. aveva detto, andate in tutto il mondo, predicati a tutte le creature, io sarò con voi, sì, nella consumazione del mondo. però egli ci attende. Ci attende là dove si è assiso alla destra del Padre, come verbo incarnato. Egli ha aperto le porte del paradiso. L'umana natura, l'uomo, non più il verbo, l'uomo si è assiso alla destra di Dio. Per noi sono state aperte le porte del paradiso celeste, dell'Eden celeste. Le porte dell'Eden terrestre si sono chiuse all'uomo peccatore. Ma il verbo di Dio, incarnandosi e ascendendo al cielo, dopo aver consumato la sua missione, ha aperto per l'uomo le porte dell'Eden celeste, un Eden più grande, più bello ed eterno dell'Eden terrestre. ed è là che debbano essere fissi i nostri occhi. Dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi, se Cristo è risorto, se Cristo è assiso alla destra del Padre, cercate le cose dell'Assù, non più le cose di quaggiù. Cercate le cose dell'Assù, dove è Cristo che sia dalla destra del Padre, e dove vi attende. non cercate più le cose di quaggiù. E allora ecco, fratelli e sorelle, una parola sulla dimensione escatologica della nostra vita cristiana. Dove tu ti trovi a Gesù? Mi trovo in cielo. là io ti attendo. Sono con te nel cammino della terra, ma ti attendo in cielo. Dove sono io, deve essere anche tu. E' quello ora il cammino che Cristo ci segna in questa vita. E adesso, fratelli e sorelle, bisogna mettere molta attenzione, perché non sbagliamo strada. Gesù ci attende nel grembo del Padre. E dobbiamo raggiungerlo. E allora la prima cosa che noi dobbiamo fare è questa. Guardare sempre in alto. San Moneventura ha una parola molto bella. Sursum axio. Cioè agire sursum. All'insù. E ci dà questa figura. L'uomo della terra è recurvus. Recurvus. Il cristiano è erectus. Non è più curvo sulla terra, ma è eretto. Ma già qualche cosa c'è nella stessa nostra natura. Perché l'uomo è fatto per camminare dritto. per guardare in alto. Guardare in alto. Guardare oltre gli orizzonti terreni. Guardare il sole. Guardare le stelle. Guardare il cielo. guardare in alto. Così anche la nostra vita cristiana. Ricordiamo sempre bene. quella antifana o quel ritornello dopo la consacrazione del calice. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. Il cristiano vero è il cristiano in attesa. sono retto dalla speranza. La speranza è la virtù del cristiano. Perché è la speranza che già possiede la caparra del futuro. perché già da questo mondo questa speranza si proietta verso il non ancora. Ma il non ancora è radicato nel già. Perché è una speranza che è fondata nella fede, radicata in Dio che abbiamo dentro di noi, nello spirito che ci è stato donato, il quale spirito ritorna sempre nel grembo del Padre. Di là è venuto a noi e là ritorna. Come alla colomba. Perché lo spirito è raffigurato dalla colomba? Perché la colomba ritorna al nido, al suo nido. lo spirito ritorna là di dove è partito. Un colomba viaggiatore va e ritorna appunto di dove è partito. e noi nello spirito siamo ricondotti nel grembo del Padre dove Cristo ci attende. Ecco allora la dimensione escatologica della nostra vita. non perdiamo la visuale. Non perdiamo il traguardo. Perché è il traguardo che segna la rotta. Il traguardo davanti ai nostri occhi è la rotta che dobbiamo tenere per raggiungere quel traguardo. Come la bussola che disegna il cammino. Come quando uno è sperduto nella notte e guarda la stella polare e sa la stella polare a nord. Così anche noi fratelli e sorelle non dobbiamo perdere il traguardo che è il cielo. Dove Cristo ci attende e allora tutta la nostra vita acquista un altro spessore. Ricordate il testo bellissimo. Che vogliamo leggere? C'è qualcuno che vuole leggere? Leggi Corinti 7. L'atteggiamento del cristiano. Oppure possiamo anche leggere Ebrei 12. Leggiamo così Corinti 7. Vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno. perché passa la scena di questo mondo. Io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Passa la scena di questo mondo. E allora vivere come qui dice l'Apostolo. che compra come se non comprasse. Che è sposato con la moglie come se non fosse sposato. Cosa vuole dire l'Apostolo? Non attaccarci alle cose di questo mondo. Vivere per là di là. Non abbiamo qui, dice l'Apostolo, altrove, una città dove abitare. Cerchiamo noi una città futura. Voi qui siete ospiti e stranieri. siete pellegrini in questo mondo. Abbiamo perduto il senso del pellegrinaggio da tanto tempo, da tanto tempo. Da quando da nomadi che eravamo nell'Esodo siamo diventati cittadini di questo mondo. E abbiamo abitato le nostre città. Sapete Caino, nelle scritture è presentato colui che fece la prima città degli uomini. fissò la sua dimora sulla terra, si attaccò alla terra. E' il simbolo di Cainiti, gli abitanti che si chiusero, non più nomadi, in una città dentro le mura. noi abbiamo perduto il senso del pellegrinaggio che recuperiamo quando qualche volta ci mettiamo in pellegrinaggio e non gustiamo il senso del pellegrinaggio. I nostri pellegrinaggi sono gita, sono avventure. se noi vivessimo bene i nostri pellegrinaggi comprenderemmo questa dimensione dell'essere pellegrini in questo mondo. Chi è pellegrino in una città straniera non si ferma, non si attacca, non stabilisce rapporti stabili, ma rapporti transitori. sa che è pellegrino, ospite per qualche momento nella città terrena, ma la sua patria è un'altra, quelle del cielo. non dimentichiamo la nostra tessera dove è scritto tale dei tali, nome del battesimo cittadinanza celeste cittadino del cielo familiari di Dio principe di casa reale perché siamo principi nella casa del padre perché siamo figli di Dio di Dio questa è la nostra tessera la nostra identità non siamo terreni siamo terreni per una condizione temporanea ma la nostra vera patria è quella del cielo di là siamo venuti e da dobbiamo ritornare e allora chi è pellegrino e sente la nostalgia della patria quando si avvicina alla meta gioisce non intristisce perché sa di ritornare in famiglia nella casa sua dove il padre l'attende dove la madre l'attende dove i fratelli l'attendano dove c'è la gioia e la pace dove si beve il vino nuovo dove c'è la felicità e allora la nostra vita si colora ha un altro sapore e le pene della vita le pene della vita diventano gioia per noi perché attraverso la pena che noi camminiamo verso la patria lo diceva Gesù la via stretta non la via larga la via larga non porta la sopra ma è la via stretta che porta la sopra e la via stretta è quella eseminata dai dolori dalle sofferenze dalle tribolazioni la via di Gesù la via della santificazione la santità la via delle beatitudini un giorno Gesù salì sulla montagna una grande folla dice l'evangelista sia l'evangelista Matteo sia l'evangelista Luca lo aveva seguito dalla Galilea dalla Giudea dalla Decapoli e da oltre Giordano una folla immensa però Gesù si staccò e con i discepoli salì sulla montagna e lì dettò il codice la carta fondamentale la carta magna del nuovo regno di Dio e incominciò a dire segnando il cammino l'ottuplice sentiero cioè la via a otto corsie piccole e anguste ma otto corsie la via tracciata da Lui la via santa la via che già risplendi in Lui che è la via che conduce al Padre io sono la via beati poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli beati gli affritti perché saranno consolati beati i miti perché erediteranno la terra beati i misericordiosi perché otterranno misericordia beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio beati i puri di cuore perché vedranno Dio beati i perseguitati beati perché di essi è il regno dei cieli il regno dei cieli e in tutti questi beati che sono già beati qui perché crede nella promessa di Dio che non mentisce il bene è il futuro ma la beatitudine già incomincia qui e noi la vediamo dipinta sul volto di Cristo perché il povero è in Gesù il povero nacque povero visse più povero morì poverissimamente sospeso tra cielo e terra le volpi hanno le loro tane gli uccelli i loro migli ma figlie dell'uomo non ha dove posare il capo chi vuole venire dietro di me e rinnecchi se stesso vende tutti i suoi averi e mi segua Gesù il povero il povero di spirito colui che è distaccato dalle cose terrene colui che è erectus colui che è libero da tutte le catene che schiavizzano l'uomo della terra non è libero è schiavo e schiavo è ricco soltanto di catene ma Gesù è l'uomo libero non ha catene ed è beato la beatitudine rifugia nei suoi occhi dice bene il catechismo della chiesa cattolica che le beatitudini dipingono il volpo di Gesù Gesù afflitto porta tutte le afflizioni degli uomini non ha bellezza non ha apparenza non l'abbiamo visto come uno davanti a cui ci si copre la faccia per non vederlo egli porta tutti i dolori del mondo tutte le ferite però quello che è un castigo per lui per noi è salvezza e il volto di Gesù lecce uomo ecco l'uomo l'uomo vero l'uomo vero è Cristo che attraversa tutte le afflizioni del mondo è beato perché sa che attraversa le afflizioni egli raggiunge la gloria attraversa la croce raggiunge la gloria ed è luce per noi perché nell'associarci a lui nel seguire lui noi ritroviamo la felicità noi troviamo la via del cielo beati mite imparate da me che sono mite numeri di cuore chi è mite possiede il mondo perché possiede se stesso chi è mite eredita la terra la terra promessa la terra promessa il cielo dove scorre latte e miele Gesù mite ed umili di cuore illumina l'uomo che si rende mito che è come un agnello mansueto che non vela davanti agli uomini che lo percuotano l'uomo che si rende uccidano ma quell' agnello diventa poi un agnello dritto nel trono davanti al padre Gesù mite, agnello immolato diventa per noi emblema di beatitudine via 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 Beati puri di cuore perché vedranno Dio Avere gli occhi di Gesù Gesù vedeva sempre Dio suo padre Aveva gli occhi puri Non inquinati Beato chi ha pure di cuore Il testo dice Entecardia Puro nel cuore Pure dentro il cuore I suoi occhi vedono Dio Lo vedono già E lo vedranno nella beatitudine Beati perseguitati Per causa della giustizia Per causa del Vangelo Perché di essi è il Regno dei Cieli E allora tutte le persecuzioni che subiamo Tutte le oppressioni Tutte le angarie degli uomini Non ci fanno paura Perché la nostra vita non è qua giù La nostra vita è lassù Ed è attraverso le angustie e le persecuzioni Che noi giungiamo là Dove Cristo ci attende E già siamo beati qui Beati qui Nella speranza di raggiungerlo Nella certezza di raggiungerlo Se camminiamo per questa via che è Lui E allora fratelli e sorelle Ecco la via della beatitudine Che è la via che porta al cielo Là Cristo ci attende E là dobbiamo andare E allora fratelli e sorelle Tutte le guerre che succedono qui in mezzo a noi Tutte le liti Perché litighiamo? Perché guerreggiamo? Per un possesso di una zolla? Di un pezzo di terra? Ma vale proprio la pena Chi ha la visione del cielo Non si mette a litigare Non si mette a contendere Non si mette a sparlare Non si mette qui a destra e a sinistra Con questo o con quello Ma guardi in alto Guarda Gesù Che lo attende Guardi il cielo Non ha tempo di girare lo sguardo A destra e a sinistra Ascolta la voce Di colui che dice Vieni, vieni, vieni E risponde Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni La tua sposa ti accende Vieni, vieni, vieni Il mio spirito è pronto Non ha tempo di ascoltare Non ha tempo di vedere Perché vive la sul sumazio Cioè agisce All'insù Vedi all'insù, cammina all'insù. Io mi fermo qui perché dovremmo fare il rito di riconciliazione così breve. Ma vorrei insistere su questo punto, di dare un sapore nuovo alla nostra vita, alla nostra vita individuale e alla nostra vita sociale, alla nostra vita qui come gruppo. Siamo un gruppo di preghiera, si cammina lodando nel grande viaggio, si cammina cantando verso la patria celeste e tutto quello che succede qui tra gli uomini ci interessa poco. Sì, siamo chiamati a costruire la città terrena, a riorientare verso Dio tutte le realtà terrene perché per questo ci è stato dato il bonus regale di Cristo. però non possiamo legarci a questo mondo. Ripetiamo sempre a tutti quelli che incontriamo i valori intramontabili, ineludibili della vera vita che è quella di Dio. E insegniamo agli uomini a fare lo stesso, siamo uomini di speranza. Guardate, viviamo in un'epoca in cui quasi sono perdute le speranze. l'uomo di oggi non spera più, per questo è disperato, ed è la disperazione che lo fa cercare ad essa a sinistra, a cercare il pane e a cercare l'acqua, ma non la troverà, non può trovarla, perché l'acqua che cerca e il pane che cerca, soltanto uno può darlo, Dio. E noi dobbiamo dirlo questo agli uomini, ai nostri fratelli. Dobbiamo comunicarcelo tra di noi quando siamo in difficoltà, per dire non è il caso che ci affanniamo, viviamo del poco, come gli uccelli, come i fiori, il Padre ci dà tutto. La vita è breve, non affanniamoci, ci dice Gesù, basta il peso di ogni giorno, ogni giorno è il suo peso. Il cuore vostro, dice Gesù, è che cumulate in una sola giornata i pesi di ieri e i pesi di domani. Ogni giorno è il suo peso. De mentre sarete schiacciati, non vivete del passato, non anticipate il futuro, ma vivete la giornata. Contentavoli di quelle che il buon Dio vi dà. Siate sicuri che non mi mancarà il pane, il vestito, come non banca il pane agli uccelli, il vestito, ai fiori. Cercate piuttosto il regno dei cieli e la sua giustizia. Siate buoni, siate santi, il resto vi sarà dato in sopra più. Quello è un sopra più, ma l'essenziale è un altro, l'essenziale è un altro, Dio, la giustizia del regno. Questo è l'essenziale, il pane, il vino, il vestito, il denaro, sono un sopra più. Tanto per campare, alla giornata, ma non abbiamo qui una stabile dimora. Viviamo la giornata perché noi siamo i cittadini del cielo. Là Cristo ci attende. Questo è il senso che dobbiamo dare alla nostra vita. Non affanniamoci, noi siamo degli affannati. Tutti gli uomini che incontriamo sono affannati. Quando usciamo, tutti gli automobili che girano a destra e a sinistra, che guidano qua, che vogliono arrivare presto, tutti in affanno per arrivare, 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 arrivare. Non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Tutti affannati, perché cosa? Per niente. Fan palucche, fan palucche. Noi andiamo all'aspando, a destra e a sinistra, dietro le ombre, e dimentichiamo la realtà che è Dio. Non affanniamoci. dietro le ombre. Camminiamo nella via giusta, che è Cristo, perché in quella via c'è la verità e c'è la vita. Gesù stesso è che via e verità e vita. E allora, fratelli e sorelle, diamo il senso vero alla nostra giornata terrena. Perché è una giornata. Viviamola bene e camminiamo cantando, lodando Dio e amandoci tra di noi. Perché questo è il precetto di Dio. Tonti, tonti, ci dice Signore, ci dice Signore, imbecilli, scemi, vi ho detto di rodarmi e di amarvi tra di voi. Che vi costa? cantare e amare delle cose più belle che ci sono. Amatevi e cantate al vostro Dio che vi ha dato l'amore. Tonti, imbecilli, che vi ha fannato in cento cose dedicate tra di voi. Amatevi e cantate. E già da questo mondo siete beati. amati, camminate verso la Patria Celeste dove io vi attendo per rendervi eternamente felici.